Ma che bello gliene con la neve. L'anno scorso, prof, che c'era tantissimo, dove sono andato a sciare. Che roba, è questa del PLC? Ah, la tua allenazione. No, no, sono interrogato. Adesso dobbiamo un attimo che si carica. Sì, 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 aspetta che faccio schermo intero. Perché ho il doppio schermo e si carica... Adesso lo vado a prendere. Ci sei? Sì, io faccio così, faccio parte. Aspetta, fai così un attimo. Fai così. Vai su strumenti. Aggiunte. Sì, dove ho cercato prima con il prof. Aggiunte. Mi viene fuori questo. Eh, caspita. Ah, ma non hai installato niente, tu, caspiterina. Io ho seguito quello che c'era e ho installato tutto. Ma compreso i due seriali? Io proprio quello che c'era ho installato. No, io ti dico, ma hai messo due seriali o uno? Io ho fatto tutto, mi sembra. Anche due seriali mi sembrava di averli messi dentro. Perché per me lì non avevi messo, avendo questo, per me non hai messo il seriale, il secondo seriale. L'unica spiegazione può essere questa. Siamo dire che adesso devo prendere, disinstallarlo e ristallarlo con il proprio seriale. No, no, no. Innanzitutto tu, scusa un attimo, tu quel seriale là ce l'hai? Quello del secondo, quello del CAM? Se non ce l'hai, ti vai a riscrivere. Tu fai aggiornamento col software, tu vai a fare aggiornamento software e gli metterai la seconda seriale. Dov'è che lo vedo per l'aggiornamento software? Se tu vai, scusa un attimo, dove tu hai starter? Ok, aspetta un attimo, dove tu hai starter di Windows? Osti. Qua a sinistra, in basso. Eccolo qui. Ok, lì non hai, tu digita solido o qualcosa del genere. Aspetta, se non lo faccio l'altro. Dove vai nello start? In sotto, in basso. Prideworks, eccolo qua. Non vedo niente io. Devo proiettarla anche l'altra. Eh? Devo proiettarla tutte e due le cose, se posso. Cioè tu in pratica devi andare in setup, cioè in programmi, puoi rilanciare quel file che avevi scaricato. Ce l'hai ancora quel file che l'avevi scaricato? Eh, però non lo so. Se clicchi di nuovo quello là, lui ti entra di nuovo nel setup, a questo punto gli metterai la seriale del cam e dovrebbe funzionare. Fai modifica, modifica o aggiungi, adesso non mi ricordo il termine giusto, lui va dentro. Modifica l'installazione. Bravissimo. O se no, correggi installazione. Modifica l'installazione. A questo punto però devi avere il seriale. Eh, ma dov'è che glielo aggiungo? Perché qua non c'è niente. Cioè, non... Modifica. Io non vedo niente però. Adesso, vi faccio rivedere. Oh, adesso... Eccolo qua. Adesso tu vai in cam e devi... Clicca sul cam, dove c'è il cam. Ok? Ecco, e lì li metti la seriale. Devo rimettere un'altra? L'altra è quella che avevi. Quindi che non è uguale a questa? No. È diversa. È quella che ti avevano non mandato. Se non ce l'hai, ti devi riscrivere. Sulle mail? Forse ce l'ho sulle mail ancora? Dalla scuola. No, non ti è arrivato sull'email. Dovevi eccoppare. Quest'anno non arrivava sull'email. Vieni a vedere. Sul telefono c'è qualcosa magari. Tu dovevi aver fatto un'immagine. Dovevi aver preso un'immagine. Ma c'è tutta roba vecchia. Eh no, niente. Non ce l'ho. Allora, riscriviti. E usa quelle seriali che ti... Quando fai di nuovo, usa quelle lì. No. Va bene. Eh, perché se non ce l'hai più... È un casino. Cioè nel senso non... Loro non posso recuperare qualcosa da... Non ho capito, eh? Non posso recuperare tipo l'account o qualcosa. Per me no. Ma avevo... C'era scritto che non potevi. Vabbè, niente. C'era scritto che dovevi iscriverti di nuovo. Eh, riscriviti con le stesse credenziali, dai. Eh, va bene. Da te serve solo i seriali, hai capito? Sì, sì. Da bene? Grazie. Fammi sapere se funziona tutto. Da buon. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh, qui io spengo...